Se sapessi far funzionare questo aggeggio... Aspetta, fammi dare un'occhiata. Lo sai qual è il problema, amico mio? Quale? Tu l'hai messa su M che sta per mini, ma dovrebbe essere su W come wow. Non penso che wow ci sia sul vocabolario. Ma stai scherzando? È un verbo? Io wowo, tu wowi, egli oppure ella wowa. Buttandomi giù mi farei male, ma sarebbe una fine onorevole. E poi wowologia, che è lo studio dei wow. Mi meraviglia che tu non lo sappia, SpongeBob. Scusa, se ho dubitato di te, dovrai soltanto rispondere al telefono. Agli ordini, mio capitano. Pronto, Krusty Krab? No, io sono Patrick. Pronto, Krusty Krab? No, ho sbagliato, sto parlando con Patrick. Pronto, Krusty Krab? No, dovete smetterla, ho detto che sono Patrick. Io non sono Krusty Krab. Patrick, Krusty Krab è il nome del ristorante. Bene, adesso mi mostri che cosa c'è nella tua scatola segreta. Questo no, mi dispiace. Non scoprirai mai e poi mai il contenuto della mia scatola segreta. Caratterialmente tu sei un libro aperto, forse. Ma io sono un pochino più complicato. Che ci posso fare? I meccanismi segreti della mia mente contorta sono sempre stati un grosso enigma. Ma davvero? Guarda che ho un sacco di cose segrete anch'io. Ho indosso i miei calzini segreti. Oppure la scodella segreta di Gary, guarda. Ho anche un televisore segreto e persino un canale segreto. Che cosa ne dici? Ti basta, no? Patrick. Non devi dire così, Patrick. Vedrai, questa volta ti darò un compito che porterai a termine. È facile. Forza, prova anche tu. Prendi un barattolo. Quello è un cetriolo. Sì, lo so. Ti serve un barattolo. No. 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 Su, prova con questo. Togli il coperchio dal barattolo. Stai rilassato. Solleva la mano. Bravo, siamo a buon punto. Ora mettila sul coperchio. Coperchio. No, il coperchio. Il coperchio. 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 Bravo. Ci sei quasi. Ora avvicinali al coperchio. Acqua. Fuochino. Fuochino. Fuoco. Fuoco. Fuochissimo. Tu brucia. Ok, aspetta. Aspetta. Ora fai esattamente quello che faccio io. Ora fai esattamente quello che faccio io. Esattamente. 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 D'accordo. Ora faccio esattamente quello che stai facendo tu. Oh, sono un disastro, lorra. No, al contrario. Ce l'hai fatta. Dici davvero? Calma, gente. Un po' di silenzio. Bene, cominciamo. C'è per caso qualcuno di voi che ha già confidenza con uno strumento? Valgono anche gli strumenti di tortura? No. La maionese può essere considerata uno strumento? No, Patrick, la maionese non è uno strumento musicale. Nemmeno il ravanello è uno strumento musicale.